Prosegue a Castiglion Fiorentino il viaggio nel mondo della settima arte, proiezioni e ospiti di caratura nazionale nella suggestiva cornice del piazzale del Cassero per la nona edizione del Castiglioni Film Festival. Tra i protagonisti di questa edizione Luca Verdone, noto regista, figlio del critico cinematografico Mario Verdone che ha presentato la sua pellicola Le Memorie di Giorgio Vasari, quasi completamente ambientata nel monastero di Camaldoli. Che se lo merita, è stato un grande lavoratore, un uomo pieno di attenzione e di rispetto per i grandi maestri del rinascimento che avevano preceduto, soprattutto per Michelangelo e per Raffaello. Lui aveva una venerazione per Michelangelo, cosa che si vedrà benissimo nel film, e spiegherò anche i motivi della sua venerazione. Non era una cosa così assorbita superficialmente, è stata meditata e giustificata dalle sue opere, da tutto il suo operato. Spazio poi all'omaggio a Ferruccia Mendola, il nuovo doppiaggio in Italia, un incontro con cui il Castiglioni Film Festival ha alzato il sipario sui mestieri legati all'universo cinematografico, sul palco alcuni dei più grandi doppiatori del nostro tempo. Pigna, è tutto quello che tengo, pigna, è tutto tutto. Non hai nient'altro? No, no, no. È quelli che hai nelle scarpe? Non c'è stato niente, te lo giuro, lo giuro sulla tomba di mia madre, guarda, niente. Abbiamo sempre voluto, anche prima della mia direzione artistica, nelle edizioni precedenti, dare importanza ai mestieri che ci sono nel cinema, quindi a quegli operatori che lavorano dietro le quinte. L'anno scorso c'era la mostra delle telecamere d'epoca, c'è stata la mostra degli abiti, dei costumi del cinema e quest'anno invece perché non prestare attenzione alle voci che ci fa ascoltare magnificamente i film internazionali.